Certi valori, certe cose, certe, come si può dire, anche aspirazioni noi che avevamo, eccetera, piano piano sono affievolite, sono affievolite. Anche perché, me lo lasci dire, oggi giorno c'è questa corruzione che colpisce, diciamo, un po' in tutte le direzioni, eccetera, non è l'Italia per cui noi abbiamo combattuto. Questo è fuori discussione. Noi a un certo punto pensavamo a un'Italia molto diversa. E potrebbe essere ancora diversa e speriamo che lo sia specialmente. Noi ormai siamo all'epilogo della vita, eccetera, ma i nostri giovani, i nostri figli, i nostri nipoti, i bisnipoti, eccetera, questi ragazzi speriamo, speriamo, ce li auguriamo noi anziani specialmente, che abbiano una vita un po' diversa di quella avuta in questi ultimi tempi, che veramente non è l'aspirazione che avevamo noi partigiani. Grazie. Grazie. Grazie.